Buonasera dal Tg Max, in apertura c'è la pagina del lavoro, la riforma del personale presentata dall'assessore Carpineta non incide in misura adeguata sulla macchina regionale. La critica è della CISL che chiede al governo Chiodi di ridurre drasticamente i dirigenti di servizio e riorganizzare le filiere delle direzioni. Nella macchina organizzativa regionale c'è un dirigente ogni sette dipendenti, un rapporto eccessivo secondo la CISL che va assolutamente rivisto se si vuole davvero attuare la riforma del personale. Per l'Abruzzo, sostiene il sindacato, si presenta un'occasione storica ma la riforma presentata dall'assessore Carpineta, condivisibile per alcuni aspetti come la scuola di formazione, il riconoscimento del merito e l'aggiornamento professionale, si presenta tuttavia come una volontà di cambiamento che non incide in misura adeguata sulla macchina regionale. Non siamo contrari alla riduzione della pianta organica, sostiene il segretario generale della funzione pubblica Abruzzo, Vincenzo Traniello, ma prima bisogna procedere all'accorpamento degli enti strumentali della regione attraverso la programmazione triennale dei fabbisogni. La nostra proposta è innanzitutto un taglio drastico dei dirigenti di servizio, una riorganizzazione delle filiere delle direzioni dove c'è un'eccessiva frammentazione di responsabilità tra direzioni diverse e da ultimo riprogettare la regione attraverso una cosiddetta filiera corta dove il processo decisionale non è più allungato dal dipendente al funzionario al dirigente ma c'è un capo ufficio che è responsabile del procedimento e di fatto il provvedimento è solo un atto formale delle dirigenti. Quindi non c'è più bisogno di un dirigente ogni sette persone ma c'è bisogno forse al massimo di un dirigente ogni 30-40 dipendenti. Riforma del lavoro, la CGL di Chieti ha proclamato tre scioperi territoriali. Tre scioperi territoriali nelle ultime quattro ore di lavoro di ogni turno e manifestazioni davanti a Sevel, Prefettura e Denso. Li ha proclamati la CGL di Chieti per dire al governo di occuparsi del lavoro e al Parlamento di migliorare il disegno di legge sul mercato del lavoro recuperando la piena tutela dell'articolo 18, riducendo le forme di lavoro precario e assicurando un sistema di ammortizzatori sociali che diano a tutti la possibilità di accedervi. Domani saranno i lavoratori dell'area di Lanciano e del comprensorio Sangroaventino a scioperare e a manifestare dalle 12 alle 14 davanti ai cancelli della Sevel di Atessa. Il 26 aprile i lavoratori del Chietino Ortonese si asterranno dal lavoro e manifesteranno davanti alla Prefettura di Chieti dalle 11 alle 13. Il 4 maggio infine sciopero dei lavoratori del Bastese e del Trignosinello che manifesteranno dalle 10.30 alle 12.30 davanti alla Denso di San Salvo. In provincia di Chieti la crisi continua la sua devastante azione sull'occupazione e sulla contrazione del reddito da lavoro. Si legge in una nota della CGL di Chieti, dai dati IMS elaborati dall'Osservatorio Nazionale CGL nel primo trimestre 2012, rispetto allo stesso periodo del 2011, crescono le ore di cassa integrazione, sia ordinaria per mancanza di commesse, sia straordinaria per ristrutturazione o chiusura di aziende. Ne toccano invece delle ore di cassa integrazione d'inderoga con i lavoratori che ne beneficiavano finiti nelle liste di mobilità. È necessario che insieme al sindacato, conclude la nota, le istituzioni locali, la regione Abruzzo e i parlamentari eletti facciano sentire la propria voce al governo affinché non resti sordo alla forte richiesta di lavoro e di sviluppo che si solleva da questo territorio come dal resto del paese. La cronaca si è introdotto nell'Istituto Sacri Cuori di via Don Minzoni a Lanciano rubando un televisore poco più di 50 euro in monetine. I manetti un romeno 39 anni arrestato dalla stradale. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti il materiale rubato, numerosi arnesi da scasso e una mannaia da macellaio. Il romeno deve rispondere di furto in abitazione, resistenza e violenza pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca. Secondo gli inquirenti, il romeno fa parte di un gruppo agguerrito che dimora nell'Interland di Lanciano, dedito ai furti notturni in abitazioni, uffici pubblici e locali commerciali. E un arresto in flagranza è stato compiuto anche a Castelfrentano dai carabinieri che hanno sorpreso un albanese 32enne proveniente dal casertano e senza permesso di soggiorno mentre tentava di entrare in un'abitazione dal balcone. A lanciare l'allarme un cittadino insospettito dai rumori nel corso della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto il nottolino della serratura di un'altra abitazione in cui poco prima era stato compiuto un furto. Le indagini proseguono per l'identificazione di eventuali complici. Ergastolo con isolamento di urno e questa la pena inflitta dalla corte d'assise di Teramo a Romano Bisceglia accusato di aver fatto a pezzi la sua ex convivente a Dele Mazza nell'aprile di due anni fa. Ergastolo con isolamento di urno e interdizione perpetua dai pubblici uffici è la condanna che la corte d'assise di Teramo è messo nei confronti di Romano Bisceglia 56enne Teramano accusato di aver strangolato e poi fatto a pezzi la 49enne a Dele Mazza. Il fatto è accaduto il 4 aprile del 2010 nel giorno di Pasqua i resti della donna furono trovati 24 ore dopo in una scarpata nei pressi di Via Franchi secondo quanto sostenuto nel corso delle udienze Bisceglia avrebbe trascorso le festività pasquali con Adele Mazza che conosceva da anni e con la quale aveva un rapporto di convivenza saltuaria ma caratterizzata da violenze e costrizioni tese allo sfruttamento della prostituzione. Un rapporto deteriorato sfociato in un atroce delitto perché ha sostenuto l'accusa la donna voleva affrancarsi da una vita fatta di sofferenze e degrado strangolata con una corda dopo essere stata probabilmente tramortita e poi sezionata in 5 pezzi riposti in buste di plastica e portati con un carrellino fino al fossato di Via Franchi per essere buttati e nascosti. I resti della donna furono trovati da un passante a spasso con il cane a incastrare Bisceglia il DNA estratto da un pezzetto di adesivo che doveva servire per assicurare una delle buste di plastica al carrellino. Giustizia è fatta, hanno detto le sorelle della vittima, adesso Adele può riposare in pace. L'ex sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, è stato rinviato a giudizio per falso documentale abuso d'ufficio in concorso con un dipendente comunale. Il gruppo del Tribunale Frentano ha fissato il processo per il 3 dicembre. La vicenda riguarda il passaggio di un dipendente comunale, Luciano Di Corinto, dal settore ambiente alla Polizia Municipale senza che lo stesso ne avesse titolo con conseguente aumento di categoria contrattuale e relativa retribuzione. I pannelli fotovoltaici prendono improvvisamente fuoco. Un'azienda che produce imballaggi in cartone è stata evacuata. L'episodio è accaduto in Contrada Volpe a Mosciano Sant'Angelo. Forse a causa di un cortocircuito e pannelli solari installati sul tetto del capannone hanno preso fuoco interessando l'intera struttura. I vigi del fuoco hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza dipendenti e struttura. I danni sono ingenti. La festa del 25 aprile non deve essere celebrata come un rito ripetitivo, ma abbiamo il dovere morale di trasformarla in una occasione di profonda riflessione. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, presentando le iniziative promosse in collaborazione con Ampi Pescara. La festa del 25 aprile non deve essere celebrata come un rito ripetitivo, ma deve essere invece occasione di profonda riflessione. Bisogna trasmettere alle nuove generazioni il messaggio di coraggio e di speranza che tanti giovani di allora vollero mandare. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Nazario Pagano, intervenendo alla presentazione delle iniziative promosse dal Consiglio regionale per la festa del 25 aprile in collaborazione con l'Ampi di Pescara. Tra queste c'è anche una rappresentazione teatrale dedicata alla Brigata Maiella dal titolo Banditen, i partigiani che salvarono l'Italia, che la compagnia dei Guasconi mercoledì alle ore 18 porterà in scena l'auditorium De Cecco. attraverso la rappresentazione teatrale si intende diffondere come i valori della democrazia e della libertà che i giovani della Brigata Maiella attraverso le loro azioni cercarono di divulgare sul campo siano interessantissimi e di grande attualità. Valori che oggi rappresentano i pilastri fondanti della festa del 25 aprile e della nostra Repubblica. Ricordiamo che la Brigata Maiella è stata l'unica formazione partigiana a ricevere la medaglia d'oro al valore militare e l'unica a continuare a combattere anche dopo la liberazione del proprio territorio di appartenenza, il Presidente Nazario Pagani. Abbiamo inteso quest'anno realizzare direttamente noi come Presidenza del Consiglio regionale che è un'iniziativa che non fosse pesante o quantomeno che non fosse paludata, diciamo che fosse più vicina ai cittadini abruzzesi. C'è l'iniziativa appunto di mettere in campo uno spettacolo teatrale e per questo ringraziamo la compagnia dei Guasconi, che Nari è le gesta della Brigata Maiella, che sono un pezzo di storia che ci rende orgogliosi a noi abruzzesi e che ci ha consentito di tornare ad essere liberi e di continuare ad avere speranza verso il futuro. Il 25 aprile credo che debba essere interpretato in questi termini. E' morto nella notte al Policlinico Gemelli di Roma Romano Malavolta, Presidente del Teramo Calcio dal 1997 al 2008. Malavolta, a 42 anni, aveva superato diversi problemi di salute dopo aver subito un trapianto cardiaco nel 1997. Fu allora che acquistò il pacchetto azionario di maggioranza del Teramo Calcio che militava nel campionato di C2. Alla sua gestione sono legati i maggiori recenti successi sportivi dalla promozione in C1 nella stagione 2001-2002 alla disputa dei play-off per la Serie B nel campionato successivo con la sconfitta nella semifinale, ma anche i peggiori insuccessi come la retrocessione in C2 nel 2006-2007 e il fallimento della società con l'esclusione dai campionati professionistici nell'estate 2008. I funerali di Malavolta si svolgeranno a Roma il 25 aprile nella chiesa di San Paolo all'Eur. In Lega Pro, pareggio interno e recriminazioni per la Virtus Lanciano, il Chieti conquista un punto in trasferta, l'Aquila perde a Perugia e il Celano retrocede. Pariepatta per il Lanciano e per il Chieti, sconfitta sul campo della prima della classe per l'Aquila, disco rosso e retrocessione per il Celano. Se il Pescara da spettatore ha goduto del ritorno al successo dopo il roboante 6-0 di venerdì all'Eoganeo di Padova, puntando dritto ora la trasferta di Gubbio nella volata finale alla promozione in Serie A, la Virtus Lanciano fa i conti con un ottimo pergocrema che strappa il punto e va anche vicino al colpaccio. Meno brillanti del solito i rossoneri che subiscono un dubbio calcio di rigore, bravissimo a sventare eredità, poi rischiano qualcosina ma si vedono annullare il gol di Vastola regolarissimo dopo il novantesimo che avrebbe di fatto chiuso i conti. Lo Spezia vince e si porta solitario in seconda posizione, mentre i rossoneri allungano a più due sul Siracusa con limite della zona playoff sempre a debita distanza. Ora due trasferte, le ultime, Portogruaro prima, Siracusa poi, il tecnico Carmine Gautieri. Mister Gautieri, non le chiedo un giudizio sull'arbitro e soprattutto sugli episodi, però almeno cosa le ha detto a fine partita, visto che lo ha inseguito, quello forse sì. Ma ho voluto sapere perché avesse annullato i due gol, dice che l'assistente ha visto due fuorigioco, mentre qualcuno poi mi diceva che c'era un fallo, prima mi avesse detto un fallo di Pavoletti, sinceramente non sono riuscito a capire perché avesse annullato il secondo gol nostro. Uno a uno del Chieti a Vibo, con i neroverdi che dominano, costruiscono tante palle gol, addirittura subiscono il gol locale grazie a Visconti. La rabbiosa reazione produce la rete di fiore, ma gli abruzzesi non riescono a capitalizzare le enorme mole di gioco espressa, colpendo addirittura tre legni. La squadra pensa comunque ai playoff. Terza sconfitta di fila invece per l'Aquila, che cade sul terreno della capolista Perugia. Nell'arco di quattro minuti arrivano tutti e tre i gol, col rigore trasformato da Clemente per un braccio di prete. Il pari rosso-blu ad opera di Cavalieri, il nuovo vantaggio del Grifone con la fucilata di Moscati. Due a uno il finale. Il Giulianova ha osservato riposo, col Celano che retrocede dopo aver perso la sfida salvezza con l'Ebolitana. Tre a uno il finale con i Marsicani, che dunque dopo cinque anni lasciano i professionisti. Una stagione purtroppo segnata sin dall'inizio. In Serie D Teramo piange il suo ex presidente Romano Malavolta. I biancorossi perdono a Pesaro e rinviano il discorso promozione in un turno poco propizio alle abruzzesi. Cadono anche ad essa Valdisangro e Angolana, rispettivamente a Riccione e Dagnone. Il derby tra San Nicolò e Sant'Egidese spetta i padroni di casa per 3 a 2. Perde in casa il Luco Canistro, superato di misura da Lisernia. Miglianico, San Benettese, infine, finisce 2 a 3. In eccellenza, la Miternina perde a Castel di Sangro e rinvia la festa promozione. Mercoledì di nuovo tutti in campo. Il Castel di Sangro rovina la festa alla Miternina, distante dalla promozione un solo punto. E invece i Sangrini vincono per 1 a 0 grazie al gol di Del Signore, con gli ospiti più volte vicini alla marcatura in un pregominio pressoché totale. Nel turno infrasettimanale, la Miternina contro la Rosetana cercherà il tutto per tutto pur di chiudere la pratica. Il Castel di Sangro invece confeziona un successo di prestigio e prezioso in prospettiva salvezza. La seconda forza del campionato Francavilla liquida un Pineto senza più obiettivi col classico 2 a 0. I gol sono di Lalli, uno per tempo. Tre punti d'oro anche per il Montori 88 che consolida il terzo posto e tiene a distanza il Sulmona. Il gol di Palombizio punisce così il Vasto Marina che rimane fermo a quota 54, una sconfitta pesantissima per gli aragonesi. Bello è il successo del Sulmona a San Salvo, con un 4 a 2 che non ammette repliche, eppure gli adriatici erano passati sul doppio vantaggio grazie ad una doppietta di Marinelli per poi crollare sotto tutti i punti di vista. Ovidiani in poker con Schiphol, Ruggeri e Bistireti con Sablone. Lo Sporting Tullum rivede nuovamente lo spiraglio playoff dopo aver regolato l'alba adriatica per 3 a 1. Forgione e Daguano portano i tollesi sul 2 a 0, poi un autorete di Palmarini consente il Tris per i padroni di casa. Lo stesso Palmarini realizza il gol della bandiera allo scadere. Il guardia Grele vuole la salvezza e travolge un capistrello ormai senza stimoli. 3 a 0 con reti di contestabile Marchetti e Letta. Reti bianche tra Cologna Paese e Mosciano. La Rosetana porta a casa tre punti da Martinsicuro, rimontando il gol di Scarpantoni grazie alle realizzazioni di Battista ed Improta. Tutto facile infine per il Casalincontrada che vince sul campo della Spal per 4 a 0. tripletta di Vespucci e poker finale di Lolli. Mercoledì tutti in campo. E questa sera non perdete l'appuntamento con E-Gol. Vi ricordo che tutti i nostri servizi sono sul sito www.tgmax.it. Vi lascio al meteo. Noi se volete ci vediamo domani. Arrivederci. Noi se volete ci vediamo domani.